Siamo qui in comune per la presentazione e la conferenza stampa dell'undicesimo torneo dedicato all'Andrea Saioni. Andrea Saioni era un nostro ragazzino che giocava nelle file del nostro minibasket che purtroppo è stato strappato da una gravissima forma di leucemia alla vita. In suo ricordo ogni anno durante le vacanze di Natale organizziamo questo torneo dedicato essenzialmente più o meno ai ragazzini under 15 che sono più o meno l'età in cui ci ha lasciato Andrea. Ci sono società di fuori regione, nel nostro albo d'oro ci sono società importanti, c'è la Menzana Siena, c'è la Scavolini Pesaro e quest'anno abbiamo fatto confluire la Menzana di Siena, c'è sempre la Consul Invest di Pesaro, c'è la società di Pontedera che è parecchio impegnata nel settore giovanile, la Picchio Civitanova, la rappresentanza dei ragazzi della selezione Umbra e i nostri ragazzi under 15. Il fatto che sia diventata una manifestazione abbastanza importante lo rimostra anche il fatto che la Federazione ci ha chiesto di poter ospitare dei giovani arbitri che si cimenteranno ad arbitrare le partite sotto lo sguardo attento di osservatori che ne valuteranno le loro prestazioni e in questo senso noi abbiamo dato l'ok alla Federazione per poter accompagnare questo tipo di iniziativa nell'ambito di questo torneo. Il 29 e il 30 saranno praticamente il primo giorno due partite, la mattina del secondo giorno altre due partite, poi le finali la sera con tre partite, ci saranno sesto, quinto posto, quarto, terzo posto e primo e secondo posto. Tutte le offerte, gli arbitri metteranno a disposizione la loro diaria segnapunti, di più i contributi che verranno offerti durante la manifestazione saranno devoluti al comitato Daniele Chianelli che è molto impegnato nel stare vicino alle famiglie che sono presso il reparto di amatologia dell'ospedale Silvestrini. For me è diventato un appuntamento importante, l'occasione per ricordare Andrea insieme alla sua società sportiva ma anche l'occasione per far visitare le società sportive che vengono da fuori, i loro atleti e la nostra città, un momento importante di solidarietà, infatti i fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione Chianelli. Credo che ci sia un po' tutto di quello che è lo spirito della nostra città, lo sport ancora una volta si conferma viatico importante per la solidarietà e spero e mi auguro, invitando più amici e perugini possibili a partecipare, che la città possa rispondere al meglio a questo invito e a questa sollecitazione.